ciao a tutti bentornati su kai di genetic dna con questo svago time dove usiamo un po anche il cervello partiamo con portal 2 questo gioco che ho appena acquistato verso la fine di maggio la nuova partitozza dovrei proporre qualcosa di diverso nella mia rubrica svago time bene vediamo un po sicuramente lo conoscerete già tutti è divertente questo giochino anche se più avanti diventa tosto partiamo caricamenti lunghi dai eccoci buongiorno 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 Il tuo buzzer è una minchia. Sì. Ok. Questa è la bella musica da merda. Bello, bello. Eh. Cioè, mi hai fatto alzare per questa cagata. Buongiorno, hai stato in sospensione... 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Hello, chi è qui? Hoi? Tu puoi aprire la porta? Questo tempo? Oh, che stai gris. Oh, che stai... Buono, stai bene. Tu puoi. Ok, 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 ecco qui si muove, questo è fuori, un robottino flippato, è fuori di testa Ok, è tutto fuori di testa Ok, 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 cioè scusami Cioè io salto e Dove cazzo vai? Se per dire me la devo salzare, ok Sì, c'è una bella sangra più calda Cioè cosa faccio qua qui? Voi ancora seguire? La potenza di riserva è riuscita, quindi tutto il centro di relaxazione non parla di riconoscere i tessi Prendi, questo è un po' più difficile E ovviamente, nessuno mi ha detto qualcosa Non, perché mi ha detto qualcosa? Perché mi deve essere informato? Sì, sono delle funzioni di riconoscere i tessi tessi che mi ha avuto il riconoscere No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Perchè? Perchè? A ver, ży��amonti dei test dai 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 E si inizia, iniziamo con questo bel gioco di testa, bene, allora, vediamo se mi ricordo, che cazzo, wow, si è molto difficile questo qua, cavolo, ok, allora, come si faceva prendere il cubetto? Come si faceva prendere il cubetto? Ok, me l'ha cagato, ma come cazzo? Boing, ma riesco a prendere il cubetto, ah ok, è quadrato, bene, facciamo il cubo qua, posso dire, wow, magia, Prossimo, sì, sì, i primi sono facili, sono quelli dopo, che, 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 che. Sì, sì, bla 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 Quindi iniziamo con Prendere il cube Voilà Adesso andiamo a prendere il cube Vieni qua cubettino Che ti porto via da qui E poi Dobbiamo riportarlo dentro qui Grande ingegno Lo riportiamo qui Poing E cambia colore anche il cubo Che bello Sono felice Poing Poing Porca miseria Che fatica C'è il cervello che esplode Wow Che piccola tacca di sclero Che palle non posso fare le mie cucine Perché ho ancora giù la voce Ehi Cazzo Un attimo in a golia Cos'è che ha detto quello Vabbè Che palle Oh Cazzo vuoi Che Oh Ok la pistola dov'è Oh Cristo Eh Ho capito Sì Sono qui Ma vaffanculo Sono vivo Viva Nel suo caso Perché è una tipa Ecco la pistola Del portale Che storia Che gioco Ci sono piante da perduto Che portello Ciao 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 Sì 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 Ok Bravo Cos'è Qua Cazzo Sì Boing Ah che è uscito Che bello Det 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 Oh vabbè Facciamo così Dove lo vorrei Boing 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 Facciamo roba dentro Via Cazzo 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 Ok I primi vanno Veramente Delucissimi No dai con la musica Roca Cazzo 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 Bravo Cazzo Cazzo A parte di noi, per favore di diseguire qualsiasi complimenti non riservi. A parte di noi, per favore di diseguire qualsiasi complimenti non riservi. A parte di noi, per favore di diseguire qualsiasi complimenti non riservi. A parte di noi, per favore di diseguire qualsiasi complimenti non riservi. E adesso Tiriamo il cubo Vieni il cubo Poing Dove cazzo mi hanno sparato il cubo Eccolo qui Poi 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 Ho uscito Portale Poing Questo Oh che culo Prendiamo il secondo cubetto Eccoci E lo portiamo su Nella apposita Sì 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 All'aperture science personality constructs will remain functional in apocalyptic low power environments of as few as 1.1 volts This next test applies the principles of momentum to movement through ports. If the laws of physics no longer apply in the future God help you Ok Eheh fighito Dai che ci buttiamo Ci buttiamo da lì Eheh fighito Eheh fighito se sei un non-employee che ha scoperto questa facility in mezzo alle ruote di civilizazione benvenuti, e ricorda che il testo è il futuro, e il futuro comincia con te si 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 allora adesso cosa devo fare che non mi ricordo più ok allora tu si portale buttami oh ma tu devi andare lì dall'altra parte, quindi come cazzo vabbè andiamo di là ok poi mi ci devo buttare io di là adesso faccio vedere oh speriamo che ci arrivo qualche dubbio qualche dubbio oh perfetto ah mi ha alzato quello quindi mi devo buttare un'altra volta io perfetto proprio tratto in pieno in un modo che il futuro non potrebbe cominciare con te ah datemi una golia c'ho una titola ho fatto alcuni video cioè due video quando ero al Mugello ma forse forse sono da censurare quei video meglio meglio che li metto poi il centro il centro rispetto a te rispetto a te rispetto a te rispetto o rispetto a ah vale si 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 aspetta eh io capì no dov'è cazzo ah stai zitto oh ecco come come calma calma ti ok ascolti mi ciò ciò mi ha detto mai 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 non ho 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 un tre è che ciò ti hai ho 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 non non ho e Andiamo. Ehi robotino, ciao! Ma ti stai fermo, mi è schizzato questo. Fuori. Tu sei schizzato però. Oh no. Sì, ciao, non stiamo parlando. Non facciamo il contatto, cosa facciamo? No, grazie, siamo bene. Grazie. Continuando, continuando. Ciao? 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 Oh, cavolo, cavolo, cavolo. Andiamo in giro con la testa del robottino. Ah, nanana. Dai, facciamo ancora un pochettino, poi basta. Hello? Eccoci qua. Sì, cosa c'è? C'è? In order to escape, we're gonna have to go through her chamber. And she will probably kill us if she's awake. Hmm. Ok, I'm going to lay my cards on the table. I don't want to do it. I don't want to go in there. Don't go in there. She's off. She's off. Don't go over her. She's off. Oh, cazzo. What a nasty piece of work she was. I can't remember that. Do you know who ended up? Do you know who ended up there? 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 I know. I wouldn't have believed either. Apparently this human escaped and nobody has seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now. So that's pretty much the whole story. You're up to speed. Ah! Still held. Still being held. That's a great job. You've applied the grit. We're all fine. That's tremendous. He's out. Come on. Ah! I'm just sorry. I just looked down. I do not recommend it. Ah! I've just done it again. That's crazy. No. This is the main breaker room. Look for a switch that says escape pod. All right? Don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just, well, obviously you've got to look at everything else to find escape pod. But as soon as you look at something, it doesn't say escape pod. Look at something else. Look at the next thing. All right? But don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't. You understand. Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Uh... Tell you what. Plug me in and I'll turn the lights on. Let there be light. That's, uh, God. I was quoting God. Oh, look at that. Turning. Ominous. But probably fine. As long as it doesn't start, you know, moving up. No. Escape pod. Escape pod. This is moving up. Okay. Okay. No, don't worry. I've got it. I've got it. This should slow it down. No. Makes it go faster. Uh-oh. Power up initiated. Okay. Don't panic. All right. Stop panicking. Uh, I can, I can still stop this. Um, uh... Oh, there's a, there's a password. Okay. It's fine. I'll just, I'll just pass it. Not a problem. Uh-oh. Stop! Um, eh, eh, eh. Uh, eh, 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 uh, eh. Okay. A, eh, 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 eh. See it? Ciao! No! Ah! Se calmo. Purino. Ops. Questo è un no buono. Bene. Vediamo cosa ci aspetta velocemente finito questo filmatino. Ok ragazzi, quando io in fondo finisco questo gameplay e vi aspetta ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA! No. Qui siamo. La sala incineratoria. Cuore che non si tratta nessuna parte di me. Non si tratta completamente dapperti quando si tratta di qui. Il portale portale dovrebbe essere qui qui. Una volta che troviamo, possiamo iniziare a testare. Come sempre.